Noi siamo felici, siamo stati subito disponibili nel momento in cui l'ASD ci ha chiesto di fare la vaccinazione a tutto il personale scolastico della provincia di Pescara. Quindi noi abbiamo accettato questa ulteriore incombenza, però abbiamo chiesto e concordato con loro la possibilità di evitare di fare 7.000 telefonate, perché di questi sono i numeri di cui stiamo parlando. Quindi abbiamo predisposto un software attraverso il quale i docenti possono registrarsi per stabilire e scegliersi l'orario preciso dell'appuntamento. Quindi ogni 15 minuti loro si portano il modellino e riescono in poco tempo ad effettuare il loro vaccino. Nel contempo proseguite con la vaccinazione degli over 80? Adesso abbiamo per qualche giorno sospeso la vaccinazione degli over 80. Nel momento in cui finiremo il grosso del corpo scolastico riprenderemo i vaccini per i nostri anziani. Adesso la ASL, perché al momento mancano qualche migliaio di posti per i docenti, ci ha dato disponibilità di ulteriori medici e presumibilmente già in questa settimana, la mattina, potremo chiudere tutti il personale scolastico. C'è stato anche qualche problema in questi giorni? Come naturale che sia in questi casi? Qualche problema è stato creato, per il mio modesto parere, ad arte dalle politiche avverse. Noi sapevamo che venerdì dovevamo vaccinare 360 persone legate al mondo scolastico e questa disponibilità l'abbiamo avuta soltanto giovedì, pomeriggio sul tardi. Quindi abbiamo inviato una serie di messaggi che spiegavano ai docenti come dovevano prenotarsi sul sito del comune. Tant'è che poi abbiamo riaperto tutte le prenotazioni anche per i giorni a seguire. Quindi, ripeto, secondo noi sono solo polemiche strumentali. Questo messaggino che ci viene contestato è stato girato a tutti, non soltanto ai professori di Montesilvano, ma io personalmente l'ho girato in due chat dove ci sono un centinaio di amministratori di tutta la provincia di Pescara. E quindi sappiamo benissimo che oggi con un messaggio su WhatsApp si raggiungono più persone di un'ordinanza scritta dal sindaco che magari in pochi vanno a leggere.